Potente appara ragazzi, qua ho Axelogic Omega, oggi sono da sole e sono qui contentissimo a presentarvi il secondo episodio della serie chiamata Axel's Road to Glory Per chi non lo sapesse è quella serie nella quale io faccio quella sorta di scalata, nella quale cercherò di arrivare in divisione 1 Appunto vincendo le più partite possibili, non comprando crediti né comprando pacchetti, quindi proprio facendo partite e basta Comunque per iniziare volevo innanzitutto ringraziare per tutto il supporto che mi state dando Ma soprattutto per i mi piace e i commenti che avete lasciato nell'episodio 1, sono veramente contento E secondariamente vi volevo dire di passare dal sito OneFIFA che appunto ha iniziato a vendere crediti di FIFA E se appunto ci passate mi raccomando utilizzate il codice di sconto Axel che vi darà la possibilità di avere un ulteriore sconto appunto sul prezzo dei crediti fisso se possiamo così dire Comunque Valaisancio Giovandiamo mi è stato consigliato da molta gente appunto come portiere da prendere benaglio Quindi io andrei subito a cercarlo con un prezzo massimo di compra ora di 450 e vediamo se gli oggetti all'asta ci sono Quindi cosa faccio? Abbasso il suo prezzo di compra ora ed ecco qua tre oggetti e ovviamente io andrò a prendere quello con più contratti Questo qua sarà credo l'unico mio acquisto di questo episodio proprio perché punterò a vincere la divisione Poiché voglio comprarmi il magico e il mitico Kabea che mi sembra molto forte su questo gioco e che è fortissimo secondo me in real life Comunque detto questo ci sentiamo tra pochissimo Poi ragazzi vi volevo dire che mi si è rotta questa luce qua Questa qua non va più e non ho voglia di utilizzare l'altra perché non si vede niente Se proprio fa una luce bruttissima appunto se voglio registrare Quindi ahimè sono costretto a rimanere così diciamo Sembro del tipo Man in Black 3 facciamo Comunque questa qua come ho già detto è la squadra Ahimè non posso ancora dargli le forme fisiche magari li farò riposare tra una o due partite Comunque adesso si vedrà E poi mi è stato detto di fare tre partite ogni episodio Quindi quante partite vi presenterò oggi? Indovinate un po' Ebbene si, quattro, no tre Sono troppo simpatico Come sempre Maglia al limite della legalità Lui sta portando modifiche invece no, schiaccia pronto anche lui Andiamo a vedere la sua squadra, meno male 43 di intesa anche lui quindi è una delle sue prime partite Ha già comprato dei giocatori Ecco una cosa che vi consiglio di fare io all'inizio E' quella di crearvi subito una squadra Ma non forte ma più che abbia intesa Perché adesso magari questo giocatore fortissimo mi batte Però guardate un attimo i giocatori che ha Sono giocatori oro quindi che ha comprato lui Che però non hanno intesa perché appunto non giocano nello stesso campionato Cosa vi consiglio di fare io? Piuttosto spendete meno crediti, prendete giocatori meno forti Ma prendeteli almeno tutti dallo stesso campionato ecco Pled, Pled avanza Vedi Champions, Champions può andare La volta sbaglia però c'è Li Long che finalizza E ci portiamo in vantaggio all'undicesimo Con sempre e il solito Long Long Buono Dai E tutti e tutti e tutti e dai e dai Fail Epic fail No Mannaggia mi è passato No Sette persone Vediamo se Benaglio ce lo para No dai Prima occasione su Benaglio Un ganja goal Stiamo scherziamo Non va bene Al diciassettesimo Ci recupera Uno a uno Bravo Così vi voglio Così dai 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 Vedi Long Dai che ci crediamo su sta palla Long Long Proverà con le skill Non è vero Non l'ho neanche fatta Neanche per sbaglio Palla del Pled No era Tahiri Mannaggia Proviamo a fare come lui Proviamo a fare come lui Proviamo a fare come lui Proviamoci Proviamoci così Champions We are the Champions La passa per Eira Per Eira Per Eira Oddio Per We are the Champions E invece Long Firma il 2 a 1 Ci si è riportato in vantaggio Così bisogna fare Dai Dai ragazzi Dai ragazzi Dai ragazzi Facciamo il zoom Bravo Bravissimo Long L'ha smistata bene per Rodriguez Ancora Long Bello 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 E 3 a 1 E Trick Sempre lui Ma quanto è forte Che giocatore abbiamo scoperto Che giocatore No Per la miseria Per la miseria Per la miseria Spider-Man Gesù Gesù Spider-Man No Benaglia non fa il miracolo 3 a 2 Brutta Brutta storia Brutta storia Mamma mia Che intervento da macellaio Uscito bene Bello Così Piano 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 No Per Eira Non deludermi Champions We are the Champions Lo vede Long 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 No Eira Long Mettila Bello E c'è il gol 4 a 2 E il 93 Meno male L'abbiamo chiusa E andiamo a vincere anche questa Ed è finita Ce la portiamo a casa Ragazzi Cioè Per Eira È fortissimo Adesso io pensavo di prendere Cabella Ma mi sta venendo l'idea Di fare una squadra Anche intorno Al tizio Lì a Per Eira Avevo detto di non prendere nessuno Ma se trovo un naldo A mille Mille crediti È mio No Questo non ha contratto A 900 Che affarone ragazzi Preso un bel naldo A 900 Lui ci serve Così ci dà anche doppia intesa Venaglio E poi è comunque Abbastanza forte Allora ragazzi Ho trovato Cioè nel club Avevo appunto Uno di quegli A pacchetti Che avevo aperto inizio Questo dat Che riesce a darmi Una buona intesa Perché centrocampista centrale Inglese E appunto Al resto della squadra È quasi tutta inglese Poi abbiamo Per Eira Che non c'entra niente Con la squadra Ma è fortissimo E abbiamo messo questo naldo Che ci dà doppia intesa Venaglio Non l'avevo visto Anche doppia intesa Ox Quindi niente male Dai La stiamo costruendo bene Adesso Lo so già Quella che Starò Che starò per fare Ma che cazzo Di italiano uso La partita che andrò a fare Sarà una delle più difficili Perché infatti Con i giocatori Così stanchi La vedo dura Dalla maglietta Secondo me è forte Non so Ho questa ispirazione Vediamo 37 di intesa Andiamo così Bene 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 Anche lui Stesso errore Cos'è che ha fatto Come vedete Non vi dico Che è la prima volta Che gioca Perché all'inizio Strono solamente Tre giocatori oro Lui cos'è andato a fare Andato a comprare Giocatori oro Ma che appunto Magari è abbastanza forti Che costano poco Però non c'entrano niente Insieme Quindi è un po' una pecca Non fate così Fate piuttosto come sto facendo io Ecco Bravissimo Andrew Bravo 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 Ma Rigore Va bene Long Long si prepara Farà la finta Destra sinistra sinistra E lui rimane fermo Ci portiamo in vantaggio Ragazzi mi diverto troppo Per fare queste partite Cioè come metterle in diretta Mi piace veramente Come serie relax As rotto glory E spero che piaccia anche a voi Se vi piace Cosa dovete fare Mangiamo un biscotto No Mettere un bel mi piace Ci arriva Occe Palla per Pereira Che si deve rifare Pereira Pereira Madonna No Oddio che cosa ha fatto Signori Questo è Pereira È fortissimo Cioè se vi volete fare una serie A Prendere Pereira È d'obbligo È d'obbligo ragazzi Demiri ragazzi Demiri Vede Nando Nando ora per Rodriguez 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 Bella Boom E 3 a 0 Al 41esimo Abbastanza easy Dai È in modo Detto le ultime parole famose Venaglio Parla per il Pled Che vede Long adesso Oh 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 Long le skill Prova l'azione personale Long in velocità Prova l'azione in velocità Prova l'azione in velocità Mamma mia Quanto è veloce Quanto è veloce Quanto è veloce Quanto è veloce Quanto è 4 a 0 Al 53esimo Se non è una bestia Lui ragazzi Dato che Mi sembra che appunto Mi stiamo portando tanti gol Mi sa che non faccio Terza per i tanti Perché devo andare Mannaggia Long Che arrivo all'azione personale Long in velocità No si è fatto male Eh lui è grave Vabbè critiche avremo Li spenderemo Per la sua corrigione Palla per Demiri Che vede Duff 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 E Mamma mia che gol 5 a 0 All'84esimo Non posso Ho sentito che avete bussato Ma non posso Un attimo Buono Anche Duff Non segna più Long segna Duff Dai oh Mi sta morendo la squadra È agghiacciante sta cosa Ed è finita ragazzi Quindi Vinciamo anche questa partita Questa squadra Abbiamo vinta 5 a 0 Se non mi sbaglio Quindi risultato Anche abbastanza buono Veramente buono Decente Comunque Detto questo Il video è terminato Non faccio la terza partita Per due motivi Il primo è credo di aver fatto Tanti gol Quindi credo che un video Di 7 minuti Magari anche 5 Per 7 minuti Riesca Ad uscire Diciamo Riesca a farlo E secondariamente Perché devo andare Però ci tengo Adesso entrate in causa voi Innanzitutto Mi dovete dire Se continuare La squadra Cioè perché io adesso pensavo Dato che il lato destro Lo farò Della Bundes Pensavo di fare L'altra pezza Della squadra Della Premier Però c'è quella Per era lì Che mi attizza un sacco Ragazzi Quindi fatemi sapere Se comprare Caveia O rivoluzionare la squadra Adesso vediamo un attimo Come farla Quindi mi raccomando Scrivete un bel commento E scrivete un commento Se dopo aver visto Questo video Come mai eravamo 4-0-0 Ora siamo 3-0-0 Su Perché la divisione 10 Io ho vinta La divisione 10 Boh ragazzi Stava un po' sdrogheggiando Speriamo che migliori Domani Adesso devo chiudere E quindi mi raccomando Fatemi anche sapere Se preferite comunque Vedere 3 o 4 partite Quindi detto questo Io vi saluto E vi dico Anzi no Perché infatti Vi volevo ricordare Passare al mio secondo canale Mi raccomando Se siete interessati Di barri di FIFA Passate il link In descrizione Detto questo Io vi saluto E vi dico Potenta Parla di sede Nel prossimo video Ciao a tutti